Oggi dipingiamo con i pastelli ad olio Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te Come state? Sono tornata dopo una piccola parentesi di influenza Sono di nuovo tra voi in piena forma E sono oggi insieme a voi per disegnare barra dipingere con i pastelli ad olio Dico dipingere perché effettivamente il pastello ad olio è l'anello di congiunzione tra il disegno e la pittura E' la parte disegnata che più si avvicina ad un quadro dipinto Ed anche come stesura del colore si avvicina molto perché il colore deve essere sfumato, spalmato sull'opera Oggi faremo insieme un bel funghetto Non vi tengo qui moltissimo Vi dico solo che la migliore ricetta dei pastelli ad olio Scherzo, una buona ricetta dei pastelli ad olio La troverete anche nel mio libro Il ricettario dell'arte Dove con pochi ingredienti e di pigmenti potrete creare tutti i pastelli ad olio che più desiderate Che siano molto emulsionabili, facili da fondere e da stendere Quindi una ricetta ottimale che trovate a pagina 54 del ricettario dell'arte Con tutti i passaggi passo passo per creare degli stupendi pastelli ad olio Bene, e allora vi aspetto in tutte le librerie e anche online sui vari link che vi lascio qua sotto Lo trovate anche su Amazon e vi arriva domani Allora, andiamo sul piano da lavoro e andiamo a dipingere con i pastelli ad olio Oggi disegniamo con i pastelli ad olio Occorrente, io userò gli oil pastel della Pentel Arts Sono questi pastelli ad olio con una gamma colori super completa Hanno un prezzo molto molto abbordabile e una resa abbastanza buona Una matita Uno sfumino Una tavoletta in legno per riprodurre il nostro soggetto Un phon per accelerare i tempi di asciugatura Poi io ho con me sempre delle salviettine umidificate per lavarmi le mani E dei toglioni di carta per asciugare le dita ogni qual volta io le lavi Ho già disegnato il mio soggetto su una tavoletta in legno preparata con del semplice gesso di bologna Ma potete usare anche una tavoletta grezza non preparata e il risultato sarà il medesimo Comincio a rimettere una campitura di nero sovrastata da del blu Gli metto il nero e poi sopra il blu e sfumo tutto con le dita Come vedete sto provando anche a sfumare con un cotton fioc Ma devo dire che il risultato migliore lo ottengo con le dita E avendo cura di pulire le dita ogni volta che cambio colore Faccio tutta una campitura nera che sovrasto tutta con del blu E poi ancora con del nero e sfumo tutto con le dita Delicatamente senza portare via il colore Ora voi non lo vedete ma tra una mano e l'altra asciugo tutto con il phon Adesso lo vedrete più avanti Intanto immetto qualche lumeggiatura di bianco A simulare un pochettino il biancheggiare delle nuvole nel cielo notturno Stiamo disegnando dei funghetti sotto la pioggia Quindi inserisco le lumeggiature delle nuvole E intensifico lo scuro del cielo lì dove si vede appunto la volta celeste Quindi intensifico bene bene Scurisco con il grado di nero che più mi aggrada E adesso faccio anche il terreno Il terreno su cui sono poggiati i funghetti è diventato una pozza d'acqua Quindi mi serve rifare gli stessi colori del cielo ancora più intensi Quindi nero, poi del blu e poi ancora del nero ben chiuso Voilà, stendo tutto con le dita e chiudo benissimo, saturo il colore Lascio asciugare un attimo e nel frattempo mi dedico alla parte sommità del fungo Lo faccio tutto rosso anche perché devo coprire quello sbaffo di acrilico azzurro Che era sulla tavoletta da un bel po' E quindi passo il pastello Lo stendo ben bene con le dita E faccio la stessa cosa anche sul funghetto più piccolo Come vedete qua vi faccio vedere che asciugo con il phon Tra una stesura e l'altra Asciugando con il phon vedrete lucidarsi tutto il pastello Per poi essiccarsi velocemente A quel punto sarà pronto per ricevere la nuova campitura di colore Che accoglierà senza trasportare via il colore precedente Uso uno sfumino per chiudere e delineare perfettamente i margini del funghetto In pratica lo sfumino spostando il pastello ad olio diventa quasi un colore ad olio a mo' di matita Immetto le prime ombreggiature sul funghetto piccolo Lì dove l'ombra è formata dalla presenza del fungo più grande che lo sovrasta E sfumo tutto con le dita Quindi ricertifico la forma del fungo di nuovo con il mio sfumino Adesso creo il gambo del fungo Vedrete che immettendo il bianco quello si sporcherà con i bordi del fungo che sono sporchi di nero Questo gioverà alla causa perché io stenderò lo sporco del nero Quindi aggiungerò ancora ombreggiature nelle parti più scure E trasferirò il colore con lo sfumino creando queste incrostazioni di colore Che saranno molto realistiche Quindi metto il nero e poi ne tolgo una parte Poi aggiungo il bianco dove voglio che sia più lumeggiato Alla fine fisso tutto col fun Adesso immetto l'ombreggiatura sotto il cappellino del fungo Nella parte scura del funghetto più piccolo E sfumo sempre con le dita molto delicatamente E' arrivato il momento di mettere i puntini sui funghi Questa è un'operazione molto importante Che dovrete compiere con decisione e forza Dovrete pressare bene e velocemente sulla calotta del fungo Proprio lasciando una porzione di pastello sul fungo stesso Perché sennò il bianco non ha il potere di coprire il rosso sottostante Mentre se andate di forza strappando un pezzo di colore al pastello L'effetto verrà bellissimo Adesso vado a scurire ulteriormente la base su cui sono poggiati Il suolo su cui sono poggiati i funghi E dopo aver asciugato come vedete Delle lumeggiature di bianco Proprio per far capire che quella è una puzzanghera E simulo la specchiatura del funghetto Sia nella parte bianca che leggerissimamente E anche con un po' di rosso sulla parte proprio finale Adesso do delle specchiature luminose Così dando dei tocchetti E mi diletto a fare la pioggerellina Che cade sul fungo E che esplodendo la goccia sul fungo Schizza un po' ovunque Ora col pastello ad olio le gocce vengono un pochino grossolane Allora voi usate lo sfumino per assottigliarne lo spessore Così come sto facendo io E poi sulla calotta del fungo Puntinate a modi due archetti Che divergono dalla goccia principale Tutte le macchioline di acqua Come se fossero dei puntini bianchi Quindi rimpinguate le lumeggiature sulle gocce Con dei tocchetti bianconitidi E adesso aggiungiamo un po' di prato Un po' di erbetta Per rendere più realistico tutto il contesto Andate a implementare il rosso Se ce ne fosse bisogno sulla calotta del fungo E voilà La nostra piccola opera d'arte È bella e pronta per essere appesa E si chierà in breve tempo E poi potrete proteggerla Con una comune vernice per colori ad olio Vi lascio le foto e ci vediamo dopo Visto che bellino è il nostro quadretto Allora molto delicato Non è una mia opera originale Ho preso spunto da una foto Mi pare vista su Instagram E ho preso appunto ispirazione Per creare questo simpaticissimo quadretto È un quadretto vero e proprio Una volta steso il colore È veramente difficile distinguere Se sia pittura ad olio passata a pennello O pastello ad olio Perché come vi dicevo nell'intro Il pastello ad olio è la chiave di congiunzione Tra la pittura ed il disegno Più facile per chi è abituato a disegnare Da controllare Ma anche un pochettino più complesso Creare le sfumature desiderate Rispetto al normale colore ad olio Sicuramente a differenza dei colori ad olio Qual è la cosa bella di usarli a casa Che non hanno il tipico odore dei colori ad olio Che si asciugano molto velocemente con il phon E che gli strumenti, mani comprese Sono facilmente lavabili in pochissimo tempo Quindi un modo carino e veloce Per dipingere a casa Senza le incombenze della pittura ad olio Di pastello ad olio Abbiamo molto trattato All'interno del corso di tecniche pittoriche Che tengo qui sul canale Vi faccio vedere cosa abbiamo fatto Con i ragazzi del corso Questi sono altri quadretti Con pastelli ad olio Molto leggiadri e leggeri Oppure questo qua Che ancora i ragazzi non conoscono E che faranno molto presto Molto più corposo Questo addirittura è fatto a spatola Perché il pastello ad olio Può essere usato anche a spatola E lo insegno proprio all'interno Del mio corso di tecniche pittoriche Dove mi farebbe piacere Avere anche voi l'anno prossimo Quindi se siete interessati Al corso di tecniche pittoriche Scrivetemi su Facebook Tra i messaggi privati E così l'anno prossimo Quando il corso riprenderà Sarò lieta di invitarvi a partecipare Bene Non mi rimane che salutarvi Rimandarvi su tutti i miei social Instagram TikTok Facebook Dove tengo tra l'altro Il corso di disegno di arte per te Vi aspetto numerosi Ma sempre qui Anche per il prossimo video creativo Da Ombretta e da arte per te Tutto Alla prossima volta Ciao Ciao